Non sono... mi emoziono. Buongiorno, lei sa cos'è la robotica? È un nuovo progetto che sta andando in corso qui alla scuola Iapigia, a Unoverga. Saprebbe spiegare di cosa si tratta? Allora, i bambini mettono in pratica, costruiscono con dei... come si chiama? Con dei Lego, con dei Lego, Lego degli oggetti e poi inseriscono dei macchinari in modo che possono... servono per la scuola, per una didattica, un disegno. E li programmiamo al computer, giusto? Esatto. E poi li mettiamo su dei percorsi oppure li facciamo ballare insieme a noi. E sa che quest'anno le gare di robotica nazionali si svolgeranno a Bari? Sì, alla fiera, so, dal 27 al 30 aprile. Ok. Organizzate dall'istituto comprensivo Iapigia, Unoverga. Diretto dalla preside Patrizia Rossini. Giusto? Ok, grazie.